...portare all'ippodromo di Agnano. Ah, capisco. Ti sei uffeso? No. Mi avete detto la cosa più bella del mondo. Che mi volete portare con voi, da farmi vedere da tutti. Come una signora. Volevo diventare veramente una vera attrice. E l'etichetta del sex symbol era un'etichetta che non mi interessava moltissimo. Più che un'attrice, un monumento al sesso, ha scritto di Sofia il New York Times. Ma a trent'anni sapeva usare tutte le espressioni del suo volto. Che è stato, fino a me? Sto piangendo, Dumi. E quando è bello i ghiagnoli. A sessant'anni, Altman le chiese di rifare la mitica scena dello spogliarello. Noi, non è il primo film che ho visto di lei, però. Di lei. Ho usato, abbiamo recreatato quella scena con lei e Marcello. di oggi e oggi e oggi, e usato in Pré-de-Porter. E loro recreatavano, avevano la stessa wardrobe. So I wanted to see if I had the same desire for Sofia that I had when I was young and it was even more exciting to me because by this time I had not many girlfriends. So then I saw again and my imagination started working like as if I was a child. And Sofia and Marcello, they had such a history together. They'd done so much together that when the two of them were there, I mean, and of course they worked what they were going to do. I would say, why don't we do so and so and so and so. And they'd go up and they'd start speaking to each other in Italian. They said, OK, we know what to do. And I'd say, OK, do it. I don't know. La vita ci aveva separati nel lavoro, nella geografia e nelle consuetudini ma tutto questo per incanto svanì al momento di girare fumo per qualche ora di nuovo giovanissimi pronti a mordere la vita a volerci bene tra lei oggi e lei di 30 anni fa non c'è tanta differenza francamente eh sì io fra lei e una di queste indossateci famose vai andrei con Sofia subito come tanti anni prima le note di Abajur e lo sguardo buono e divertito di Marcello mi sciolsero e mi fecero affrontare con serenità quella che potrei definire tra le scene più